E' un brutto momento. Sto male. Sto morendo. No! Aiuto! Può dirmelo? Non può dirmelo? No, non può dirmelo se non può dirmelo. Non posso dirglielo. Mi sento solo? Sì. Ehi? Sento che sto per morire. Nient'altro? Non so cosa ho che non vale. Vorrei fare qualcosa di importante finché sono vivo. Sarebbe proprio il momento di farlo, sì. L'idea è di realizzare un'opera teatrale imponente. Per cosa è stato usato? Dirigibili. È perfetto. Ti ho delusa in qualche modo. Tutti deludono quando li conosci bene. Non so cosa sto facendo. Sapere di non sapere è il primo fondamentale passo per sapere, capisci? Voglio che implori un mio bacio in ginocchio. Noi dobbiamo indagare l'essenza di ogni essere. Ti ho seguito per vent'anni. Ho imparato tutto di te. Dammi la parte e scoprirai chi sei davvero. Non so perché la faccio così complicata. Perché tu sei così. Ti aiuterò in qualunque modo. Miliardi di persone al mondo e nessuna di loro è una comparsa. Ognuno è protagonista della sua storia. Keden? Che c'è? Quando avremo un pubblico qui? Sono passati 17 anni. Che c'è? Grazie a tutti.